Come spesso accade, è proprio nei momenti di grande difficoltà che nascono le grandi ispirazioni. Questa fragranza, l'ho creata per questo periodo, nasce dal desiderio di ricordare a ciascuno di noi l'importanza della propria casa. Desidero dedicare la mia nuova creazione alla nostra amata Italia, alla sua inesauribile bellezza e all'infrapprendenza di tutti noi. Grazie 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 Grazie